Benvenuti a Newsomondo, lo spazio informativo del Tgla Sud dedicato alle altre notizie dall'Italia e dal mondo. Apriamo questo spazio di informazione con una notizia che riguarda l'allerta maltempo, in particolare la situazione a Roma, nella capitale, dove ci sono stati maggiori danni. Due le persone morte sul litorale, l'area Dispoli e Cesano. Oggi c'è stata però la calata dell'allerta arancione, scuole, uffici e strade sono aperti. Da Cracovia le dichiarazioni del sindaco Virginia Raggi, sindaco della serata di ieri, è stata in contatto con il vice sindaco Frongia, presente a Roma, e con la protezione civile e la polizia locale. È evidentemente un evento eccezionale, una tomba d'aria che ha colpito un po' tutta la parte nord di Roma, gravissimo la di Ispoli e Cesano. Ci sono state due vittime, ha ricordato il sindaco. Poi per il resto ha fatto un bilancio alla caduta di molti alberi, circa 70 rami crollati. Ci sono stati alcuni allegamenti. Sembra che è stata allagata anche parte della stazione di Roma. Allagamenti di alcuni sottopassi. Ci sono 20 squadre di volontari al lavoro della protezione civile. L'allarme meteo continua, ma soprattutto nel centro nord Italia, anche se la situazione meteo pare che sia in peggioramento, soprattutto per la giornata di domani nel sud Italia. Parliamo della situazione ad Amatrice, perché c'è un grido d'allarme da parte dei sindaci delle zone del centro Italia, in particolare da parte del sindaco di Amatrice, Pirozzi, che dice che la nostra dignità non fa rima con coglionaggine. In tempi non sospetti, dissi che per noi il periodo critico sarebbe stato tra novembre e marzo, che nessuno dimentichi che questa gente, la mia gente, dice il sindaco, ha avuto 137 morti. Non se lo dimentichi mai nessuno, altrimenti si corre il rischio di essere furviati da altre cose. Ancora non è che la dignità è segno di coglionaggine, perché noi abbiamo 113 chiese che non ci sono più, non c'è più un'attività economica e allora non è che la dignità non fare il pianto, significa appunto, usa queste parole dure, significa, dice che uno è coglione. Io sono uno che se gli si dà una parola poi pensa a quella parola valga, se invece capisco che quella parola non vale più, allora parafraso il film Gradiatore, quando lui disse al mio segnale scatenate l'inferno. Io non voglio scatenare nessun inferno, continua il sindaco di Amatrice, ma che in questo momento si tenga in debito contro il sacrificio e lo stato d'animo di un'intera comunità. Quindi praticamente Pirozzi, intervenuto sul Radio Cusano Campus, remittente dell'Università degli Studi, Nicolò Cusano, ha voluto sottolineare tutta la sua amarezza e forse la sua delusione, insomma per dire che non bisogna dimenticare la gente di Amatrice, la sua gente. Per quanto riguarda quella zona dove appunto ci sono stati tutti questi morti due mesi fa per via del terremoto, ci sono alcuni dati, i dati sono questi, sono più di 31.700 le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile, in seguito alle forti scosse che hanno colpito il territorio dell'Italia centrale il 24 agosto, il 26 ottobre, il 30 ottobre in particolare. E quanto riferisce la protezione civile, sono oltre 20.400 assistiti in palazzetti, centri bolivalenti e strutture allestite ad hoc nel proprio comune. Oltre 9.100 le persone accolte presso le strutture alberghiere lungo la costa deatica e sul lago Trasimeno. Veniamo alla politica di casa nostra e alle ultime polemiche. Le urla fuori, fuori, mi preoccupa chi sta zitto sul foglietto della Commissione. C'è scritto stai sereno, io voto no, è l'unico modo per far saltare l'Italicum a Palermo. L'ex segretario torna sul, parliamo di Bersani, torna sull'intervento di Renzi alla Leopoldo e sui cori che hanno accompagnato le frasi su chi voterà no al referendum costituzionale. Provo grande amarezza perché vedo un partito che sta camminando largamente su due gambe, arroganza e sudditanza. E così non si va da nessuna parte, lo ha detto ieri Pierluigi Bersani, parlando delle contestazioni alla minoranza del PD nel corso della Leopolda a Firenze. Ed è stato chiesto dalla Procura di Roma il rinvio a giudizio per 20 persone accusate di associazione per delinquere turbativa, d'asta, falso e truffa ai danni del comune, coinvolti l'imprenditore Fabrizio Amore e Maurizio Anastasi, ex responsabile della sovrintendenza. I due vennero, lo ricordiamo, arrestati insieme ad altre persone, tra gli appalti al centro dell'indagine, anche quello dei lavori della sala Giulio Cesare, l'aula consigliare del Campidoglio, la sede del comune di Roma. La vicenda è collegata alla maxi-inchiesta mafia capitale. E queste sono le principali notizie che abbiamo selezionato di casa nostra dell'Italia, ma veniamo alle notizie dagli estri, dal mondo. In primo piano le elezioni presidenziali, naturalmente i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, la democratica Hillary Clinton e il repubblicano Donald Trump, stanno trascorrendo le ultime frenetiche ore della campagna elettorale negli Stati contesi dell'Unione, che faranno pendere la conta dei grandi elettori a favore del prossimo inquilino della Casa Bianca. Clinton, la Clinton ha incassato una nuova assoluzione da parte dell'SBI, che, non ricordiamo, aveva riaperto le indagini a suo carico per lo scandalo dell'Eme, la soli dieci giorni dal voto. Ha contrattaccato la Clinton alla recente offensiva di Trump nei stati tradizionalmente democratici del Michigan e Pennsylvania, compuntate in Georgia e Arizona. Le diverse strategie e priorità dei partiti, a meno di 48 ore dalla fine della campagna elettorale, emergono soprattutto in Colorado. Questo Stato non elegge un presidente repubblicano dal 2004 e un governatore conservatore dal 2002. Chiudiamo con una notizia di, sempre di esteri, di cronaca. Lo scontro tra due tifosserie rivali si è concluso con una sparatoria e otto morti in un bar di Yuba, capitale del sud Sudan. Le violenze sono scoppiate durante la ritrasmissione di una partita del campionato di calcio inglese, ha indicato il vice ministro dell'informazione Cordit. Numerosi versano in condizioni critiche. Quindi c'è stato questo scontro tra tifosi dei rivali che si è concluso, dicevamo, con una sparatoria, molti feriti ed otto morti. E così ci fermiamo qui per quanto riguarda il nostro spazio informativo News Mondo e ci rivediamo domani. Arrivederci. Grazie.